Battere la Turris per mantenere il passo del Catanzaro, ospite dei Biancazzurri domenica 27 novembre. Nel frattempo in Coppa i calabresi di Vivarini hanno eliminato l'Avellino ai rigori e sono approdati ai quarti della competizione. Cinque vittorie consecutive mancano dalla stagione 2015-2016, quando il Pescara di Oddo, poi promosso in aria, riuscì a inanellare sette successi di fila tra la diciottesima e la ventiquattresima giornata contro Intella, Lanciano, Modena, Latina, Livorno, Perugia e Bari. Altra serie di cinque successi consecutivi dopo altrettanti KO anche nel finale di stagione tra la trentaquattresima e la trentottesima giornata. Sconfitte in sequenza Como, Avellino, Cesena, Spezia e Brescia. Dal primo minuto torna Mora, forse anche Milani insidiato da Crescenzi. A centrocampo conferma per Craia, Jabois in vantaggio su Aloy. Davanti finalmente Colai con Cuppone e Vergani, match winner della sfida con Messina. Dunque per la seconda volta Lescano dovrebbe partire dalla panchina. Di fronte la Turris che non vince dallo scorso 8 ottobre, 3-5, Ponte d'Era con Monterosi. Due le sconfitte interne contro Catazzaro, 0-4 e Crotone, 2-4. Peggiore difesa del girone C, 25 reti subite ma quinto migliore attacco con 19 gol. Il grande ex è Pippo Riccardo Maniero, 35 anni, il prossimo 26 novembre. Con la maglia del Delfino, 133 presenze e 43 reti. La prima in Coppa Italia il 15 agosto 2010 sul campo dell'Albinoleff. L'ultima nell'andata dei play-out col Perugia il 10 agosto 2020. Da ex Maniero non ha mai battuto il Pescara. Il bilancio è di 4 pareggi e 3 sconfitte. In 7 sfide un solo gol realizzato con la maglia del Cosenza il 30 ottobre 2018. Pari di Luca Crecco e 1-1 al San Vito Marulla. L'altro ex è Paolo Frascatore. 33 presenze e 2 gol con la maglia del Delfino. Decisivo lo scorso anno col Montemarchi a Pontedera e nel girone di ritorno a Olbia. Il tecnico della Turris, David Di Michele, recupera Giannone. Resta in dubbio l'ex Trapani e Venezia a Togurdo. Sistema di gioco 4-3-3 in attacco l'ex Vastese, Leonetti e Giannone a supporto di Santaniello. In tal caso panchina per Pippo Riccardo Maniero.